Buonasera a tutti, grazie per essere qui presenti. Siamo arrivati alla quarta edizione premio Monsignor Francesco Sannino e come ogni anno ho scelto di farvi conoscere un altro dei tanti lavori di mio zio, ovvero la biografia di una madre fondatrice, una donna che ha dedicato la sua vita ai bisognosi, proclamata serva di Dio nel 2005 e per la quale la Santa Sede ha dato nulla a osta per esperire la sua causa di beatificazione e canonizzazione. Parliamo di Madre Letizia Zagari, con lei che ha fondato la congregazione Figlie di Nostra Signore dell'Eucaristia. Questa sera, attraverso i nostri cari relatori, avrete modo di conoscere la figura di questa grande suora. Con il professore Giustiniani, docente di filosofia teoretica, affronteremo le peculiarità dell'opera biografica composta da Monsignor Sannino. Con il professore Palmisciano, docente di storia della Chiesa, parleremo di Madre Letizia e il laicato cattolico a Napoli nella prima metà del XX secolo. Infine, Don Gaetano di Palma, docente di scienze bibliche, parleremo del carisma di Madre Letizia che è alta nella biografia. Colgo l'occasione per dirvi che Monsignor Sannino non sarà ricordato soltanto attraverso questo evento che rinnovo ogni anno con la borsa di studio agli alunni meritevoli dell'Istituto Nautico del Greco, dove mio zio era docente, ma verrà ricordato anche attraverso un'associazione culturale a lui dedicata. Questa associazione è nata il 20 marzo di quest'anno 2021. Si occuperà di educare alla cultura, ma anche di interagire con la realtà sociale attraverso il volontariato, beneficenza e il sostegno alle famiglie di difficoltà, ma di promuovere e gestire attività artistiche e fictive e organizzare seminari, convegni e pubblicazioni di vite e libri. Il logo scelto per rappresentare l'associazione è semplice. Come semplice era la vita di mio zio. Il logo è stato disegnato da mia figlia Claudia e sono le iniziali stilizzate di Monsignor Sannino con un'ancora e una croce che rappresentano i suoi due mondi, ovvero la fede e il mare. Ringrazio ancora tutti voi, il nostro caro sindaco Giovanni Palomba e tutte le associazioni presenti, i Lions, Piomati di Maginai, Solo Donne Rosanna, Oltre al Cuore, e l'associazione dell'assunta di San Vincenzo Romano e l'Immacolata e Panatron. Adesso diamo inizio al convegno e passo la parola al nostro moderatore, Salvatore Peril, giornalista. Grazie e buon proseguimento di serata. Grazie Giovanna, buonasera a tutti quanti voi, un saluto anche ai nostri amici telespettatori che in questo momento e successivamente avranno modo di osservare la diretta di questo evento. Possiamo dire in una parola molto più affettuosa e affabile buonasera all'intera città di Torre del Greco perché in questo momento noi è vero che stiamo celebrando e c'è il piacere di rincontrarci tutti è un primo ritorno, è un primo segnale ad una riequilibrata normalità, quella che da tanto tempo e da oltre un anno abbiamo desiderato, ma è anche un momento in cui noi ci fermiamo un attimo, qualche ora a riflettere, a ricordare e quindi a rileggere una pagina della nostra storia. Monsignor Sandino è un figlio di questa terra, un figlio di questo territorio, è stato espressione in diversi ambiti di natura professionale nei quali ha saputo infondere il suo taglio di uomo, il suo taglio di sacerdote, il suo taglio di educatore, una persona affabilissima e vicino ai giovani che ancora oggi, ad oltre 25 anni dalla sua scomparsa, continua a raccontare di sé e continua a raccontare la storia e l'orgoglio di questo territorio. Allora, con queste parole apriamo ufficialmente la quarta edizione del premio Monsignor Francesco Sandino, un saluto ai docenti e agli alunni dell'Istituto Nautico Colombo di Torre del Greco che oltretutto sono insigniti e sono i vincitori di questa quarta edizione. Con queste parole io cedo il microfono al signor sindaco, il dottor Giovanni Palomba, per un indirizzo di saluto e successivamente daremo la parola ai nostri relatori. Buonasera a tutti, saluto con cordialità il presidente del circo nautico Gianluigi Ascione che ospita il presente evento nonché l'amica Giovanna Romano che con puntualità e con determinazione anche quest'anno ci offre la possibilità di approfondire di ricordare le virtù e l'esempio di un uomo di un sacerdote e di uno scrittore dal carisma straordinario che oltretutto ha descritto e raccontato anni importanti della storia sociale e civile di Torre del Greco Monsignor Francesco Sannino insignito anche nel 1992 della onoreficenza di cittadino illustre. Un deferente saluto inoltre a Sommaria Rosa del Vecchio e alla dirigente scolastica dell'istituto nautico Lucia Cimmino oltre ai professori Pasquale Giustiniani Giuseppe Palmisciano e Monsignor Ghetano di Palma. Prestigiosi relatori della serata a voi tutti il mio benvenuto nella città di Torre del Greco e in questa splendida location che incarna l'anima e lo spirito del popolo torrese. Non da ultimo un affettuoso saluto all'istituto nautico Cristoforo Colombo ai docenti e agli alunni vincitori della quarta edizione del premio Monsignor Nicola Sannino. Quest'anno c'è un entusiasmo diverso e più grande. Sembra che finalmente stiamo riuscendo ad intravedere la luce dopo il grande tunnel di una pandemia che da oltre un anno e per oltre un anno ha cambiato modificato e trasformato le nostre vite e questa sera ritrovarci qui in presenza seppure in numero contenuto è qualcosa di bello e di prezioso. Lo ricordo sempre con rinnovato affetto pensare a Monsignor Sannino mi riporta indietro nel tempo Giovanna ai miei anni giovanili e mi arrivi vicino a persone di emozioni ormai lontane ricordo la celebrazione delle dieci la domenica mattina nella chiesa dell'assunta tu seguivi tuo zio io seguivo mio padre era lì che accompagnando mio padre avevo modo di ascoltare le omelie di Monsignor Sannino di apprezzarne lo spessore culturale ed umano un educatore mite ma saldo nei principi e nei valori un sacerdote che ha creduto fortemente nei giovani e nella loro capacità di essere i più autentici interpreti del domani non per questo trascurando o ignorando le loro difficoltà questa sera Giovanna ci inviti a riflettere su un ulteriore scritto tra i tanti di Monsignor Sannino che rappresenta anche la prima biografia di una donna dall'alto profilo spirituale su Letizia Zagari oggi elevata a servo di Dio che sono certo avremo modo di conoscere e di approfondire attraverso gli interventi e le testimonianze dei relatori che interverranno e la memoria è il bene più prezioso e la ricchezza più grande di cui una comunità umana può giovarsi e così anche per noi il ricordo di Monsignor Sannino unito a quello di tanti uomini e di tante donne che questo territorio ha avuto l'onore e il privilegio di ospitare e allo stesso tempo un modello di valori da offrire alle generazioni il nostro tempo e diventa opportunità per conoscere e interrogarsi sulla profondità della nostra identità locale e della nostra coscienza civile valori che implicano necessariamente il recupero della nostra comunità che da sempre ha saputo distinguersi in cultura progresso e civiltà ringrazio davvero tutti in particolar modo quanti portano avanti con tenace e passione questa iniziativa offrendo a ciascuno di noi la possibilità di riscoprire torre nei suoi uomini e nei suoi fatti grazie e buon proseguo dei lavori a tutti grazie al signor sindaco Giovanni Palumba di Torre del Greco cittadino illustre nel 1992 Uomini e fatti dell'antica Torre del Greco sembra di rileggere le pagine di uno dei libri che hanno fatto la storia del nostro territorio ma che al tempo stesso vanno ad esaltare un modello di virtù e di valori che ogni educatore che ogni uomo impegnato nel sociale e nella cultura ha il dovere di consegnare alle giovani generazioni un cittadino tra i tanti uno dei tanti figli di questo territorio a partire da San Vincenzo Romano che è il cittadino per eccellenza che ha insignito per sempre e consacrato la bellezza e la pluralità della nostra terra e della nostra città darei la parola ora a Sor Maria Rosa del Vecchio la superiore della comunità di Vetri sul Mare per un indirizzo di saluto qualche raccomandazione tecnica e obbligatoria al tavolo dei relatori vi prego di tenere i cellulari distanti dal microfono o di spegnerli per evitare interferenze chi ha piacere di fare qualche foto alla sala è pregato di non mettersi al centro del corritorio gentilmente perché ci sono le telecamere che stanno trasferendo il contenuto dell'evento ai nostri cittadini e prego interventi contenuti per consentire un agile e agevole sviluppo dei lavori di questa giornata grazie buonasera a tutti mi onoro di essere qui a nome dell'intera congregazione figlie di nostra signora dell'Equaristia e per ora generale madre Stefania Segnalini a chi non conosce la nostra congregazione espongo i punti fermi del suo carisma l'adorazione è la diffusione del culto eucaristico da cui nasce l'impegno per l'evangelizzazione l'attività caritativa e sociale infatti il nostro ideale si può riassumere così vivere pienamente il mistero dell'Equaristia imitando la Vergine Santissima Adoratrice del suo figlio divino nell'adorabile Sacramento L'adorazione segnata dal silenzio e dall'ascolto della parola rappresenta per noi la prima e più importante modalità di preghiera che unisce i diversi aspetti di ogni singola spiritualità Madre Letizia Zagari fondatrice della congregazione paragonata a una lampada sempre accesa che si consuma davanti all'Equaristia è stata apostola della diffusione del culto equaristico primo e sommo pensiero della sua vita interiore perciò vivere la dimensione eucaristica del carisma tramandatoci da Madre Letizia è il nostro modo specifico di vivere la congregazione religiosa ognuna di noi infatti è impegnata a porre al centro della vita nostra e dei fedeli l'Eucaristia chi è stato Monsignor Sannino per noi e perché collego Monsignor Sannino con Madre Letizia bisogna partire dall'8 marzo 1985 quando Madre Letizia ha lasciato questo mondo per unirsi definitivamente al suo sposo divino ella ci aveva consegnato in eredità un esempio di contemplazione e di azione apostolica volta a diffondere l'adorazione a Cristo Signore presente nell'Eucaristia diventava pertanto nostro impegno conoscere e approfondire la sua vita e la sua spiritualità per poter custodire e costantemente attualizzare il carisma eucaristico di tale donna innamorata dell'Eucaristia occorreva far conoscere le virtù lo spessore spirituale in altre parole se ne doveva scrivere la vita una biografia l'allora superiore agiale Madre Anna Battista Sor Gemma Iardino che pochi mesi fa la pandemia ci ha strappato e Sor Candida che è qui presente in mezzo a noi si misero subito in azione per cercare la persona competente si rivolsero nel 1800 1986 al cardinale Corrado Ursi il quale senza esitazioni indicò Monsignor Sannino e a lui affidò l'ingarico di scrivere la prima biografia di Madre Letizia Monsignor Sannino era spesso chiamato a ruoli di responsabilità stretto collaboratore prima del cardinale Corrado Ursi e poi del cardinale Michele Giordano dal quale ricevette l'importante incarico nel 1987 di direttore del settimanale di Ocesano Nuova Stagione distinguendosi sempre per saggezza ed equilibrio oltre che per la particolare capacità comunicativa era inoltre cappellano d'onore del Papa e responsabile regionale della Federazione dei Settimanali Cattolici quando quando lo abbiamo conosciuto era ancora docente di religione all'istituto nautico di Torre del Greco infatti ha riservato sempre un'attivazione alle problematiche giovanili ha formato intere generazioni di giovani operando con umiltà e con determinazione e ha acquisito ancora di più la sensibilità dei problemi dei marittimi diverse sono le pubblicazioni sulla storia sui luoghi sulle tradizioni della città e numerose sul dialogo interreligioso il Cardinale Ursi ci aveva proposto dunque una persona eccellente e qualificata ho conosciuto Monsignor Sannino quando avevo 29 anni e ricordo come se fosse ieri la sua prima venuta a Ercolano non nascondo che eravamo timorose scrittore che conosceva il proprio mestiere giornalista docente ci avrebbe certamente messo in soggezione e invece ci trovammo davanti a un sacerdote poco più di 50 anni semplice umile preparato comunicativo affabile oggi oggi posso affermare senza nessuna difficoltà un sacerdote straordinario si trovò davanti a un arduo compito perché Monsignor Sannino non aveva conosciuto Madre Letizia ma con equilibrio saggezza e competenza mettendoci a nostro agio esaminava giorno per giorno gli scritti di Madre Letizia e soprattutto ascoltava le testimonianze delle suore che erano vissute con lei scriverà fu così che incominciai a innamorarmi di quell'umile figlia della chiesa di Napoli le fondi per attingere e intessere la storia e l'esistenza di Letizia Zagari erano poche madre Letizia infatti aveva distrutto parte dei suoi scritti e quasi tutto del suo diario personale ecco perché era ancora più attento ad ascoltare le suore chiamate da lui pagine viventi diceva spesso mi conforta vedere sul vostro volto la gioia e l'entusiasmo nei vostri racconti e visibile e vivo l'amore per la vostra fondatrice questo ancora di più ci animava a raccontare di madre Letizia infatti il suo libro è particolarmente prezioso anche per il tipo di incoraggiamento che infonde tra le righe dedicava a tutti noi una grande attenzione ed era paziente nel rileggere i nostri racconti li organizzava meticolosamente e scriveva a margine bello oppure buono e il nostro cuore si risollevava con ciascuna di noi era solito discutere delle sue bozze sono stata con madre Letizia nove anni e vi posso garantire che Monsignor Sannino ha scritto di lei come se l'avesse conosciuta cosa ci ho comunicato di madre Letizia la sua fisionomia spirituale diceva è stata segnata da un carattere decisivo e volitivo personalità intelligente e colta mentre mente riflessiva sguardo acuto temperamento forte sapeva con chiarezza ciò che doveva fare e andava dritta per la sua strada sorretta solo da immensa fede in Dio da uno sconfinato abbandono nel sacro cuore di Gesù dal testo di Monsignor Sannino un apostolo dell'equalistia del nostro tempo emerge il cuore della spiritualità di madre Letizia voglio essere un imperativo che ha caratterizzato tutta la sua vita madre Letizia è stata docile al progetto di Dio non si è fatta domande non si è opposta quando gradualmente Dio è entrato nella sua vita con sua vita e fermezza ha pronunciato il suo primo voglio essere voglio essere missionaria dell'equalistia ai miei fratelli spezzerò il pane della parola racchiuso nel Vangelo e l'ha ascoltato l'invito di Dio viene e seguimi dove Signore dove vuoi che io vada Signore devo lasciare la mia famiglia i miei genitori i miei fratelli le mie sorelle la mia agiatezza economica infatti il padre era commerciante d'oro dal profondo del cuore Letizia ha risposto sì Signore eccomi voglio partecipare con il mio amore insieme a te alla gloria del padre madre Letizia è andata dritta al cuore della chiesa l'equaristia fonte e culmine della nostra fede si è formata ai piedi dell'equaristia e dall'equaristia si è fatta plasmare nelle lunghe notti di adorazione prolungati silenzi preghiera del cuore la preghiera illuminava e guidava la sua vita e colmata di equaristia ha pronunciato con coraggio voglio essere tutta carità come si conviene a un'anime eucaristica e eucaristia e carità vanno sempre insieme la sua adorazione si è concretizzata ponentosi a servizio madre Letizia come Gesù si è messa il grembiule e ha servito le donne in fabbrica le famiglie bisognose i bambini che nel dopoguerra avevano perso i genitori ha accolto ebrei nella propria casa infatti il fratello sposerà proprio un ebrea tutta la sua vita è stata caratterizzata da questo desiderio voglio solo conoscere lui Gesù crocifisso per amor mio concludo noi ci consideriamo fortunate per aver conosciuto Monsignor Sannino abbiamo ammirato la sua bravura perché dopo poco più di un anno abbiamo potuto pubblicare la prima biografia di madre Letizia donna consacrata fondatrice della nostra congregazione religiosa e tutto grazie a un sacerdote scrittore giornalista docente dal cuore grande nella presentazione del libro il cardinale Ursi così concludeva Monsignor Francesco Sannino ha raccolto con pazienza ed amore le prime voci ricordi scritti e testimonianze che alla luce dell'ammirabile vita della madre avranno un eco sempre vivo nel seno di Dio all'ode gloria della sua grazia oggi madre Letizia è serva di Dio e certamente dal cielo prega per ognuno di noi grazie a Maria Rosa del Vecchio concludiamo questo primo momento di saluti con l'indirizzo di Monsignor Alfonso Punzo canonico della Cattedrale di Napoli sì sì benvenuti a tutti cari amiche cari amici credo che sia alquanto provvidenziale questa sera la mia presenza in mezzo a voi e sono grato a chi ha voluto questo momento la professoressa Romano con la complicità di Sor Maria Rosa di questo non ho dubbi perché io ho avuto modo di condividere di partecipare alla delicatezza alla presenza umana e cristiana delle persone di cui stiamo parlando innanzitutto madre Letizia Zagari e poi Monsignor Francesco Salino c'è un'espressione che mi accompagna nell'arco di questi momenti mentre voi guardate me e io cerco di guardare voi dice ma la bellezza di una donna e parlo anche per voi ma lo siete già belli la bellezza di una donna la sua fragranza si nota e si raccoglie forse attraverso il gusto di una speciale pettinatura o scusate la chiarezza di un colore ben riuscito io in verità non ne ho la possibilità per cui o attraverso un abito magari filmato che la distingue o una sua fattata magari per l'estate diceva lo scrittore francese no la bellezza di una donna dunque di tutti quante voi ragazze è data attraverso la profondità di uno sguardo la discesa dagli occhi attraverso il suo cuore e nel suo cuore l'amore e qui mi pare entra a pieno titolo la persona non tanto la figura la persona che io ho accompagnato sotto il braccio come non come un figlio ma come un nipote dell'ultima ora acquisito in quella meravigliosa casa delle figlie di nostra signora dell'eucaristia in Ercolano scuola e comunità ecclesiale di amore forse questo è non l'ambito ma è è la letizia di madre letizia la comunione io ricordo cari amici averla accanto a me con la pesantezza degli anni ma con uno sguardo così seducente attraente perché quegli occhi oltre a contemplare la bellezza delle nostre terre mi viene in mente quanto è bello sto cielo quanto è bello sto mare certo terra benedetta da Dio e dagli uomini ma venivo raccolto avvolto come una culla di amore dallo sguardo di madre letizia zagari non lo dimenticherò mai più quello sguardo quegli occhi scuri densi di luce di una luce materna umana ma arricchita da una luce di potenza che veniva dall'alto ricordo il corretto dove pregava madre letizia credo che sia ancora presso l'altare maggiore della cappella ora ristrutturata per motivi liturgici in alto a destra e lì avvenivano nella semplicità di una preghiera orante quel cuore a cuore plasmata la madre dal cuore stesso del salvatore e quella ricchezza di grazia di amore diventava presenza veniva trasferita alle persone che le incontrava ricordo c'era anche Don Franco credo di vieccio i momenti belli trascorsi ad Ercolano e al momento conviviale del pasto o a dopo di esso comunque in una piena comunità ecclesiale dove la madre si sentiva anche fu eletta madre del seminario e dei seminaristi di Napoli io sono uno di quei figli avete ragione io ho fatto una brutta riuscita però ce l'ho messo tutta ce l'ho messo tutta io sono uno di quei figli che è stato piccolo accanto a quella maternità calda immediata lieta lieta madre Letizia è una donna lieta ricordo quando Monsignor Francesco Sannino dovette preparare la biografia di cui si è parlato io sono stato testimone anche del processo iniziato qualche tempo addietro di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio sulla cui tomba finalmente appare il pannello con la scena dei discepoli di Emmaus che la madre non poté avere in vita per motivi di costo malebbe dopo la morte Monsignor Sannino mi chiese ma tu che l'hai conosciuta che le sei stato vicino e dunque hai beneficiato della bellezza di questa donna ricordi fenomeni mistici io dissi no so dove pregava l'ho accompagnata e questo mi è bastato se potessi aggiungere il fenomeno mistico di madre Letizia è proprio questo senso della comunione ecclesiale così bella non a caso Gesù ricordati amore gli uni per gli altri non a caso lo stem marcivesco vile del cardinale ursi aveva una terminologia simile quindi i sentimenti del cardinale ursi e di madre Letizia confinavano e abitavano abitavano il tabernacolo e abitavano il tabernacolo di ogni uomo e di ogni donna venne il tempo poi posso continuare qua un secondo poi magari Salvatore si tu buono con me sono sempre stato con te dunque venne il tempo poi di inaugurare il monumento marmorio presso la casa dell'istituto nei presti del giardino c'era un po' di preoccupazione era la prima volta che madre Zagari veniva rappresentata attraverso un'opera scultoria fu un capolavoro riscosse l'ammirazione di tutti fu detto madre Letizia tornata di nuovo in mezzo a noi permettetemi una seconda una seconda goccia di bellezza io ho avuto modo di conoscere Monsignor Sandino dal tempo del mio diaconato c'era Papa Pio IX non era di qualche giorno fa ero insegnavo allora al nautico c'era anche l'allora alunna in minigonna Giovanna Romano e fu io a presentare anche il testo di Monsignor Sandino sulle vie del mare comunque il mare come luogo di comunione tra i popoli e lui voleva nella bontà del suo cuore che io predicassi predicassimo dicessi qualche pensiero qualche leggerissima nota nella grande e mirabile solennità di mezz'agosto che era la novena dell'assunta io ho avuto professori alle mie spalle che ce l'hanno messa tutta per plasmarmi io attinto ma ma i professori erano e sono quelli che sono ricordo la famiglia signor Sandino ricordo diceva madre Teresa di Calcutta dice guardate riso non costa nulla arricchisce chi lo riceva e non toglie nulla a chi lo dà Monsignor Sandino mi accoglieva sempre con un sorriso di felicità è come se io entrassi da quel sorriso nell'interno del suo cuore per condividere con lui la novena di colei che il sorriso di tutto il mondo era assunta alla gloria degli angeli e dei santi credo di aver detto qualche parola breve in verità le novene dell'assunta in cui Monsignor è stato rettore sia della chiesa dell'assunta a Via Comizi come in quella di Santa Maria di Costantinopoli che allora conservava anche l'immagine a noi cara di Sant'Agnello Abate è quella novena dell'assunta all'origenza di festa a tutti mi ascoltava e poi sapete come come quando una mamma si congratula un po' di quei successi umani del proprio figlio scolastici Don Francesco si congratulava con me io avevo un certo timore perché un giovane prete inescerto inadeguato un ignorantello e lui invece si congratulava per dire di lei e per le persone che si orientavano nella celebrazione eucaristica a una preghiera sincera profonda e terminava così la novena ricordo e termino questa volta veramente ricordo un'espressione tratta di un salmo che fu motivo di commento di Monsignor Francesco Saldino al ritorno della ripristinata processione dell'assunta e lo so ha ragione si è scorciato del 15 agosto a Torre del Greco sorgi o Signore tu è l'arca della tua potenza e Don Francesco commentò questa così bella quando la Madonna prima di lasciare eh ti sono grato prima di lasciare il suo popolo i suoi figli si tratteneva in quella venerata immagine per qualche momento sul sagrato dell'assunta e poi tutto ritornava era passato un altro anno ma un anno di comunione sacerdotale un anno vissuto insieme un anno con una persona che io ho avuto modo di conoscere di apprezzare di sperimentarne la paternità la bontà l'ampio sorriso insieme a quello delle sue sorelle e di suo cognato ora che partecipano dell'abbraccio eterno del Dio della bellezza ci accompagnino in questa serata perché possiamo essere la Chiesa di Dio raccolta qui in questa comunità ecclesiala che canta la meraviglia la bellezza che lo Spirito Santo fa quando un uomo e una donna avvertono il bacio e la seduzione della grazia e questo grazie a tutti grazie a Monsignor Alfonso Punzo che vediamo ufficialmente la prima parte dei interventi di saluto io saluto anche Don Franco Rivieccio che qui insieme a noi e padre Luigi Rossi dell'opera Francescanna Minore inauguriamo la seconda parte di questa nostra serata che è la parte dei nostri interventi mi piace partire da una frase che è stata detta da Sor Maria Rosa del Vecchio Sor Maria Rosa ci ha detto che Monsignor Sannino non aveva mai conosciuto Sor Letizia eppure ha scritto di lei come se l'avesse conosciuta lo scritto ci dice qualche cosa non soltanto in riferimento a ciò che in esso viene descritto ma ci dice tanto anche in riferimento a chi ha scritto e quindi attraverso gli interventi che di qui a breve seguiranno noi avremo una lettura quantomeno completa ed uniforme sia del profilo alto spirituale di Sor Letizia Zagari ma avremo soprattutto la ricostruzione puntuale della profondità culturale spirituale di Monsignor Francesco Sannino e mi piace introdurre i nostri professori con una frase che ha fatto la storia della letteratura greca e che tratta da Plutarco nelle vite parallele noi non scriviamo storie ma scriviamo vite e attraverso la ricostruzione di vita di Sor Letizia Zagari leggiamo la vita dell'uomo del nostro concittadino Monsignor Francesco Sannino allora il primo intervento è del professore Pasquale Giustiniani docente di filosofia teoretica le peculiarità dell'opera biografica composta da Monsignor Sannino cari colleghi moderatore che mi avviserà quando ho gli ultimi cinque minuti che ho preparato un quarto d'ora però non avendo il telefonino acceso per evitare i trick track lei dirà cinque minuti io già so quando concludere signore signori in presenza in remoto questo è un evento molto importante per la città e la comunità di Torre del Greco e direi in assoluto perché è il primo evento pubblico nella bonaccia speriamo definitiva di questo mare in tempesta come è stato chiamato il 27 marzo del 2020 da Papa Francesco di questo mare in tempesta che è il nostro vissuto della cosiddetta pandemia globale oggi contiamo pochi morti al giorno io ricordo sempre a me stesso anche un morto è l'umanità che sta morendo ancora perché è un bel dire solo 37 o solo 18 ma anche uno è una tragedia è un bel giorno perché noi vogliamo assolutamente ripartire fare un restart come dicono alcuni un ricominciare non da capo dal vecchio come ha detto oggi il Presidente della Repubblica ma un nuovo inizio quando sento un nuovo inizio mi ricordo sempre l'Apocalisse di San Giovanni a Portolo e quindi la novità che viene solamente dal Signore che abbiamo invocato spesso con i Santi Patroni durante la pandemia sarebbe l'ora se le cose continuano ad andar bene a ringraziare l'ora di ringraziare il Signore il Padre Eterno la Grazia la Providenza e i Santi Patroni e non dire solo meno male che ci è andata benino grazie ai vaccini oppure grazie agli scienziati grazie anche ai nostri intercessori questo per introdurre la mia lettura che chiamerei socio-antropologica di questo volume che oggi ci viene fatto rileggere è un volume che intreccia due belle storie quella di Monsignor Francesco Sannino a cui Torre del Greco ha voluto tra l'altro dedicare la rotonda all'entrata del casello autostradale della città natale è un Monsignore prete all'epoca non ancora Monsignore poi anche Monsignore con il quale ebbi modo più volte di collaborare sia per Nuova Stagione che gli diresse dal 1987 al 93 sia per Radio Tabor fu tra i primi che con un vecchio giradischi che faceva da colonna sonora collaboravo alle prime emissioni via Etele di Radio Tabor ma anche per l'edizione del grosso volume circa 900 pagine di filosofia teoretica e della religione che il mio maestro Pasquale Orlando pubblicò con l'ACM di Torre del Greco e che si chiama L'Infinito Monsignor Sannino molto fece come mediazione per far uscire questo volumone 900 e rotte pagine la prima storia che si intreccia un po' con la mia storia è quella di Monsignor Sannino la seconda storia che pure si intreccia un po' con la mia è quella di madre Zagari fondatrice delle figlie di Nostra Signora dell'Eucaristia di cui Sannino come ci è stato detto scrive questa prima biografia Ursi che amava molto la Zagari nata in 1897 quindi attraversa tutto il 900 Ursi ne parlava come di un'ape dell'Eucaristia sapete che il cardinale Ursi che ho conosciuto abbastanza bene amava le belle metafore le immagini dire un'ape dell'Eucaristia significa che c'è un alveare c'è una produzione di dolce miele ma l'ape regina secondo Ursi è la madre vergine Maria non è la madre Zagari un'ape diciamo che sta accanto alla vera vergine ape regina a cui si devono alimentare tutte quante le api perché vanno a produrre attraverso la manna eucaristica il miele succoso della vita eucaristica due gli aspetti socio-antropologici su cui voglio richiamare la vostra attenzione il primo il ruolo delle donne e anche delle donne di vita consacrata nella società e nella chiesa dei tempi di San Nino e dei tempi di madre Letizia Zagara attraversa tutti i novecento abbiamo detto e fa venire fuori questo rilevante aspetto socio-antropologico che oggi sta raggiungendo il suo punto forse più alto ma anche l'inizio della fine come sapete quando ci sono le grandi conquiste si raggiungono degli apici ma poi comincia anche una decadenza la decadenza attualmente si chiama l'oltrepassamento dei generi per cui non più emancipazione femminile o maschile ma una nuova frontiera quella di dire che ci sono n generi al di là della diade sessuata tradizionale nel novecento il ruolo della donna anche della donna di vita consacrata ha percorso grandi tappi ha trovato molti ostacoli anche nella famiglia nuova religiosa dall'abito bianco all'insegna del santissimo sacramento votata a fomentare la dottrina e il culto all'eucaristia e a rispondere ai bisogni pastorali della chiesa del dopo concilio ci sono state donne che hanno dovuto imparare ad affermare la loro femminilità il rigore delle iniziative sociali culturali e pastorali che attraversano la città di napoli i comuni dell'interland la diocesi soprattutto nel secondo novecento ci dicono che i progressi del ruolo del femminile ha trovato molti ostacoli dentro e fuori la chiesa non si comprendono le attuali decisioni pontifice di ammettere ai ministeri istituiti di lettorate accolitato anche le donne senza ricordare questa parabola ideale e pratica percorsa dalle donne in particolare le donne consacrate che nel novecento soprattutto negli anni sessanta sono diventate un po' fuori gioco essere donna significava essere emancipati di lì a poco ci sarebbero state le conquiste la propria identità sessuata il governo il padroneggiamento del proprio corpo attraverso l'introduzione volontaria della gravidanza il superamento della coppia stabile in cui lei era fondamentalmente una subordinata attraverso il divorzio nuove concezioni di eros e di agape nuove concezioni del corpo dell'emotività delle pulsioni della spiritualità e via via fino all'attuale stagione tutto questo riguarda madre Zagari e viene anche pensato sulle colonne di nuova stagione in particolare da Monsignor Sannino Ursi il cardinale che guarda attentamente a madre Le Vizie la chiama la madre dei seminaristi della chiesa di Napoli apre per così dire all'altra metà del cielo quello femminile il giusto ruolo nella chiesa che oggi vediamo realizzato nella missione anche delle donne all'ettorato e all'accolitato Sannino non manca di insistere su questa attuale figura femminile a servizio della chiesa locale quale fu Letizia prima da laica poi da religiosa consacrata in questo senso Letizia è una protagonista benché donna dobbiamo dire dopo i fatti che diventa poi centralissima ed è protagonista anche nella chiesa perché come ricorderemo attraverso la lettura del libro ella entra nell'autunno del 31 in azione cattolica entrare in azione cattolica per le donne significava ricordare che nella chiesa c'è una operosità il Vaticano II l'avrebbe chiamata attività apostolica attositas apostolica ma entrare in azione cattolica significava impegnarsi nell'istruzione azione nel sacrificio nella preghiera ecco la manifattura tabacche che è il luogo in cui la nostra Letizia fa la consulente spirituale non fa il confessore che non può confessare ma è la consulente spirituale di queste donne di periferia lei come scrive San Nino si coinvolge emotivamente è un po' come Margherita Maria Lacocque del nostro secolo dentro la manifattura tabacchi e poi la sua spiritualità mariana collegata al titolo di Maria Santissimo Nostra Signora del Santissimo Sacramento la porta e questo aspetto importante che è l'aspetto del modo femminile emotivo di vivere la spiritualità eucaristica perché l'eucaristia è per tutti ma ognuno la deve vivere a suo modo anche secondo il proprio sesso e la propria identità sessuale evidentemente non tutte rose e fiori fuori e dentro la chiesa citiamo solo un caso emblematico la prodo di Letizia del suo piccolo drappello a portici nella sede del suore palumbo che già preesistevano seppure sparute ormai verso il dissanguamento io abitavo da preadolescente a via San Cristoforo in portici dietro l'angolo andavamo a giocare fuori le suore palumbo bene donne con donne diciamo che non sempre il gradimento è spontaneo anzi ci furono aspedità ci furono lotte le antiche donne palumbo non gradiscono queste nuove donne però lo scenario ben presto cambia il 5 agosto 1948 il cardinale decide di riconoscere de facto l'istituto consentendo che esistesse ad esperimentum questo nuovo istituto con la denominazione di figlie di nostra signora dell'eucaristia vado al secondo aspetto socio-culturale lo chiamerei l'istanza sinodale è un'istanza a cui Papa Francesco ha voluto fortemente richiamare tutta la Chiesa italiana ricorderete che nel 2023 è stato già convocato il Sinodo Mondiale Generale dei Vescovi sul tema della sinodalità e ricorderete che nell'ultima assemblea dei Vescovi italiani il Papa che è intervenuto ha ricordato esplicitamente la Chiesa italiana deve mettersi in cammino sinodale alla greca mettersi in cammino sinodale significa mettersi in cammino insieme ora perché quest'altra istanza perché se osserviamo la narrazione di Sannino e la vita di Madre Letizia noi vediamo che questa pratica di mettersi in cammino è un po' la sintesi dell'esistenza di questa donna e delle donne che con lei vogliono rispondendo a una consacrazione e a una chiamata dall'alto vogliono percorrere le tappe storiche sono tappe di un cammino da sola e insieme che si chiamerà negli anni di Madre Letizia l'aggiornamento e che oggi chiamiamo anche aggiornamento sinodale aggiornamento ricorderete è quella parola magica che vi suonò nell'aula conciliare del Vaticano II quando il Papa Giovanni XXIII adesso santo la proclamò non trovò molti volti dei cardinali sintonici che significava aggiornare questa dottrina sempre eterna e perente della Chiesa cattolica che significa aggiornare fare il macchiaggio al volto della vecchia signora Chiesa certamente aggiornare significava appunto non fermarsi mettersi in cammino arriviamo così al sinodo diocesano della Chiesa di Napoli in cui aggiornamento e cammino si incrociano la donna è consacrata Letizia matura a Napoli questa forte spiritualità di cammino attraverso gli anni del trentesimo sinodo diocesano di Napoli poi è stato trovato un altro foglio nella cronistoria dei sinodi dobbiamo dire trentunesimo un solo foglio un altro sinodo che era sfuggito alla conta nel trentesimo sinodo noi troviamo tra l'altro la lettera pastorale della Pentecoste del 78 che il cardinale Ursi coloritamente intitolò così la chiesa di Napoli in ascolto dello spirito sottotitolo camminare insieme io negli ultimi anni della vita di Ursi fui un suo consulente tutti i testi che gli scriveva avevano l'onore di preleggere e di fare le mie osservazioni nei nostri colloqui spesso serali o quasi notturni egli diceva insistentemente che per avere il 100% della gente verso il 100% nell'annuncio bisogna camminare insieme questo risuonò nella cattedrale nell'aula sinodale per cui il nuovo germoglio di madre Letizia che partecipa a quest'atmosfera e le idealità del cardinale Ursi ci mettono in situazione di cammino che io chiamerei pure per concludere anche in situazione ricordata reciproca quando c'è un cammino e la via è piatta è una bella passeggiata quando c'è un cammino e la via è un po' in salita c'è l'idea della cordata e nella cordata si raggiunge una vetta ognuno sapendo bene il percorso mettendo bene i picchetti e legando bene le corde però tutti con la meta che è la grande idealità nuova stagione giornalistica per la chiesa di Napoli era la costruzione di una chiesa conciliare in cui tutte quante le figure laicali di vita consacrata sacerdotali si mettevano insieme per raggiungere la vetta che è la vetta della santità madre Letizia è una dei capifiglia di questa cordata ricordate che questa cordata tra l'800 e il 900 ha prodotto i grandi santi del meridione quelli che hanno infoltito il calendario cattolico ricordo almeno una donna come Caterina Volpicelli e almeno un uomo laico come Bartolo Longo per rammentare questa cordata Letizia sicuramente è anche lei in questa grande cordata e presto la vedremo anche pubblicamente proclamata grazie a Sannino e grazie a voi grazie al professore Giustiniani ricordo che è possibile acquistare la ristampa della biografia di suor Letizia Zagari e c'è un punto dove è possibile prendere il libro con libera offerta uscendo direttamente da questa stanza e ricordo che il racconto sarà totalmente devoluto alle suore di Nostra Signora dell'Eucaristia do la parola al professore Giuseppe Palmisciano docente di storia della Chiesa che ci relazionerà sul concetto di madre Letizia e il laicato cattolico a Napoli nella prima metà del ventesimo secolo buonasera a tutti un ringraziamento particolare ai colleghi naturalmente alla madre che mi ha preceduto al moderatore un saluto particolare al sindaco io ero stato invitato per parlare soprattutto dell'azione cattolica il ramo femminile dell'azione cattolica in verità poi in fieri ho appreso di questa figura di Francesco Sannino e devo dire che è provvidenziale per me la cosa perché io che mi interesso del rapporto tra Chiesa Napoli e Movimento Cattolico e quando più volte mi sono lamentato e saluto anche Monsignor Riviecio quando in archivio ho chiesto le annate della croce per ricostruire la storia della Chiesa a Napoli in assenza di fonti archivistiche perché c'è la regola dei settant'anni ho sempre anche in facoltà teologica chiesto al direttore della biblioteca una particolare attenzione per la stampa cattolica a Napoli perché perché è una fonte fondamentale per ricostruire la storia della fede e l'incidenza della fede nella società napoletana del novecento è uno strumento di ricerca insostituibile e quindi sapere che Francesco Sannino è stato direttore di Nuova Stagione perché poi Nuova Stagione l'ho accennato il professore Giustiniani milenovecentosessantotto anno sorribilis per il cattolicesimo a Napoli e non solo napoletano le proteste l'emancipazione lo diceva il professor Giustiniani prima ma è anche l'anno in cui Ursi partecipando aveva già partecipato agli ultimi sessioni del concilio Vaticano II tenta e uso un termine marino cosiddetto di far attraccare il concilio Vaticano II nella chiesa di Napoli cambia il titolo al giornale al settimanale di Ucesano non più la croce ma nuova stagione perché a Napoli doveva appunto iniziare una nuova fase un nuovo percorso il percorso della chiesa concilare a Napoli mi ha colpito molto nell'intervento della madre del vecchio questa definizione del carisma di Soledizia Zagari eucarestia e carità io vi racconterò molto sinteticamente la storia del ramo femminile dell'azione cattolica a Napoli e il tema che mi è stato dato e noterete che questo carisma di Soledizia Zagari è molto evidente è il filo rosso di questa storia in verità sconosciutissima noi sappiamo poco sull'azione cattolica e del ramo maschile sappiamo nulla sull'azione cattolica e del ramo femminile quando nasce il laicato napoletano nasce nel 1891 e qui c'è un'altra coincidenza importante Letizia Zagari ha genitori calabresi ebbene il fondatore del primo nucleo del movimento cattolico a Napoli è un calabrese sconosciutissimo si chiama Gianfrancesco Rodinò Marchese di San Gineto ed è il papà di Giulio Rodinò fondatore del Partito Popolare a Napoli e fondatore insieme ad altri personaggi vi cito Silvio Gava e l'onorevole Riccio della democrazia cristiana napoletana dopo naturalmente il codice di Camaldi le riunioni famose che porteranno alla fondazione della democrazia cristiana di Casperiana perché cito il circolo cattolico per gli interessi di Napoli perché questo nucleo primitivo del movimento cattolico napoletano di fine ottocento è l'anno della rerum novarum è l'anno dei santi sociali lo diceva il professore Giussiniani è anche l'anno in cui anche a Napoli ci si rende conto che l'opera dei congressi è ostaggio dell'aristocrazia borbonica e quindi il cardinale San Felice consulta Leone XIII è il segretario di Stato e quindi dà possiamo dire il permesso fa maturare il distacco definitivo all'interno del movimento cattolico napoletano della corrente legittimista che viene progressivamente marginalizzata infatti poi l'opera entra in una crisi irreversibile e invece con il circolo cattolico per gli interessi di Napoli siamo alla fondazione del primo movimento laicale cattolico a Napoli quello che poi diventerà gli storici definiscono il clerico moderatismo cioè il tentativo di aprire un dialogo tra un liberalismo non più anticlericale e un cattolicesimo non più impegnato a difendere esclusivamente le posizioni intransigenti del temporalismo papale non è un caso che proprio attraverso l'impegno e l'azione del circolo nel 1891 vengono eletti 20 consiglieri cattolici e nel 1894 il movimento cattolico napoletano entra ufficialmente nelle maggioranze che governano il comune di Napoli perché dà vita all'amministrazione preseduta da un cattolico importante anche questo sconosciuto è il conte Carlo del Pezzo di Caglianello che negli anni fin anni 70 inizio anni 80 era entrato in polemica con l'opera dei congressi per la questione dell'intervento dei cattolici alle urne politiche e quindi la famosa questione del divieto pontificio il non expedit mentre l'opera dei congressi era al suo interno dilaniata tra murriani e intransigenti viene sciolta nel 1904 nel 1892 nasce anche a Napoli è uno dei primi nuclei che nascono in Italia la prima associazione universitaria cattolica e il primo presidente nazionale sarà un napoletano Luigi De Matteis si darà vita addirittura ad un giornale vita nova dove si scateneranno le polemiche dei murriani ma il ramo femminile dell'azione cattolica a Napoli cioè l'unione fra le donne cattoliche nasce in piena età giolittiana il 17 maggio del 1909 quando la fondatrice nazionale del sodalizio Cristina Giustiniani Bandini viene appositamente a Napoli per spiegare ad un uditorio piuttosto affollato gli scopi che l'unione si prefiggiva fu formato prima il comitato provvisorio che organizza poi tutta la parte che riguarda l'iscrizione delle nuove social però il cardinale Prisco che è nato a pochi chilometri da qui tra l'altro volle che la nascente associazione avesse un assetto definitivo e scelse come assistente ecclesiastico un altro personaggio importante della storia della chiesa napoletana Monsignor Raffaele Borrelli rettore nella basilica di San Giacomo degli Spagnoli il comitato centrale delle donne cattoliche a Napoli ebbe l'assetto definitivo il 25 gennaio del 1910 ed ebbe come sede primitiva la casa di un personaggio molto importante un elemento dell'aristocrazia femminile napoletana la duchessa di Airola nome quasi sconosciuto anche questo ebbene questa è una figura importante perché è la figura della fondatrice del ramo femminile dell'azione cattolica a Napoli quali sono le funzioni del ramo femminile dell'azione cattolica e qui subito si intuisce perché in un profilo di carisma interecclesiale qual è quello di Letizia Zagari si preferisce far maturare il proprio impegno anche all'interno dell'azione cattolica perché il comitato istituisce un corso superiore di pedagogia catechistica mentre naturalmente in tutte le parrocchie napoletane sorgevano le prime scuole di religione che consentivano a tutte le donne cattoliche di ottenere l'abilitazione per insegnare i primi rudimenti della religione cattolica alle figlie del popolo di Napoli non mancando di distribuire doni e regali ai figli delle famiglie povere dopo l'educazione religiosa e la beneficenza un'altra funzione importante è quella dello studio e si inaugura nel 1911 un circolo accademico formato esclusivamente da donne dell'azione cattolica ma l'azione cattolica di Napoli il ramo femminile partecipa attivamente anche alla campagna di mobilitazione per l'impresa libica si impegna per l'assistenza ai militari alla cura dei feriti e costituisce su sollecitazione del cardinale Prisco i ricreatori femminili per l'educazione religiosa morale e civile delle figlie del popolo con una particolare attenzione per le giovani operaie che vivevano nei bassi respirando l'atmosfera satura di vizi e di propaganda socialista nei ricreatori le donne cattoliche che provenivano naturalmente per lo più dal patriziato napoletano impartivano insegnamenti pratici di cucito di ginnastica di catechismo di calateo norme di giene canto corale perfino di storia patria e siamo ancora naturalmente al periodo della rottura ufficiosa e non più ufficiale tra stato e chiesa i patti lateranensi arriveranno nel 29 per le figlie del popolo analfabete vi era anche un apposito corso di scrittura e di lettura ma non è soltanto questa la funzione dell'azione cattolica napoletana il ramo femminile la legge credano cosa fa inizia a cancellare i segni perfino i segni cioè i crocifissi e anche l'insegnamento religioso nelle scuole e si mobilita l'azione il ramo femminile dell'azione cattolica protesta vivacemente per la scomparsa dalle mura dei tribunali degli ospedali delle carceri delle scuole dell'immagine di Cristo e perfino i testi scolastici delle scuole medie superiori escludevano ogni pensiero ogni citazione cristiana ogni idea che fosse improntata al sentimento cattolico e nonostante il sincero sostegno delle donne cattoliche alla mobilitazione per l'impresa libica il governo liberale e la vigia del primo conflitto mondiale perseverava nel marginalizzare il ruolo della cultura cattolica e degli stessi cattolici dalla vita pubblica ma una nuova minaccia devono fronteggiare nel 1913 perché un nuovo disegno di legge cancellava la precedenza del matrimonio religioso su quello civile aprendo la strada naturalmente alla violazione dell'indissolubilità del sacramento matrimoniale il comitato femminile di Napoli aderì prontamente alla protesta del comitato centrale di Roma e si rivolge addirittura ai deputati cattolici napoletani e qui c'è anche la figura di giuro di no che venne letto nelle prime elezioni del 1913 che sono le prime elezioni a surfaggio universale maschile affinché non concorressero con il loro voto all'approvazione di una legge offensiva del sentimento religioso della maggioranza degli operai durante il primo conflitto mondiale la Ducresta di Airola organizza un'opera capillare di soccorso civile religioso patriottico attraverso opere di assistenza ai feriti soccorso alle famiglie povere aiuto alle famiglie dei soldati e la stessa Ducessa fu nominata nel 1916 dall'autorità prefettizia napoletana vicepresidente della commissione governativa per indumenti militari e per i lavori in lana che procurò pane e lavoro a molte centinaia di donne povere ma qui c'è un altro episodio importante che si lega molto al carisma di Letizia Zagari perché il 21 maggio del 1916 nella cappella dell'Istituto del Sacro Cuore a Piazza Medeo il padre Matteo Crowley illustrò alle donne cattoliche napoletane l'onnipotente efficace della preghiera e della consagrazione delle famiglie al divincuore di Gesù furono distribuiti ai soldati migliaia di immagini opuscoli che contenevano la formula dell'atto di consagrazione ma anche piccole banderine tricolori sulle quali le donne cattoliche fecero imprimere l'effigie del Sacro Cuore affinché il servizio eroico alla patria sui campi di battaglia fosse unito al sentimento della fede le donne cattoliche napoletane prestarono poi la loro opera anche al nuovo ospedale militare aperto a Santa Maria Egiziaca che poi sarà trasformato in ospedale civile intitolato a Cadenale Ascalesi e per venire incontro anche al desiderio di Benedetto XV preoccupato per la sorte di tanti orfani di guerra il primo maggio 1918 nello storico convento di Santa Chiara sorgeva un orfanotrofio femminile affidato ad un comitato composto quasi esclusivamente da donne dell'Unione Cattolica Napoletana mentre il circolo cattolico indiceva nel 1919 un congresso sugli interessi del mezzogiorno congresso a cui partecipava anche Luigi Sturzo il ramo femminile dell'azione cattolica napoletana nel giugno del 1918 creava anche un'altra istituzione importante il segretariato del popolo in cui le famiglie dei soldati potevano chiedere sussidi liquidazione di pensioni medicine per ammalati e anche per feriti e numerosi bambini furono accolti sulla nave asilo Caracciolo nell'orfanotrofio di Pompei mentre tanti bambini ammalati furono curati all'ospedale Navaschieri il 13 marzo 1919 Armida Barelli sbarcava a Napoli per cercare di fondare il primo nucleo della gioventù femminile cattolica italiana erano giovani appartenenti all'aristocrazia ma anche universitarie studentesse impiegate lavoratrici insomma si sviluppava il movimento di massa femminile dell'azione cattolica a Napoli l'11 dicembre dello stesso anno Monsignor Fabozzi altro personaggio fondamentale per la storia della chiesa napoletana teneva la sua lezione alle future propagandiste e nel 1920 i circoli femminili della diocesi napoletana erano già 30 divisi in aspiranti e in beniamine e nella festa del sacro cuore del 1923 vi fu la consacrazione dell'intero consiglio diocesano dell'azione cattolica femminile con una messa cantata nella chiesa della cesarea i cui locali divennero sede dei periodici ritiri nel 1925 in occasione della settimana sociale giunse a Napoli nuovamente padre Matteo Crolli l'apostolo del sacro cuore da allora si diffuse tra le socie dell'azione cattolica femminile la pratica dell'adorazione notturna si intensificò l'amore a Gesù Sacramento che forma il trinomio della formazione di base della gioventù femminile di azione cattolica a Napoli eucaristicamente pia angelicamente pura apostolicamente operosa nel 1920 nasceva anche il circolo universitario cattolico femminile presso le ancelle del sacro cuore alla sapienza benedetto anche dall'arcivescovo Zizza naturalmente le fucine saranno impegnate per recuperare il crocifisso nelle aule accademiche però il 30 maggio 1931 vi è la crisi tra l'azione cattolica e il fascismo per la delicata questione dell'educazione e della formazione dei giovani entravano in rotta di collisione in concorrenza la gioventù cattolica italiana e le organizzazioni giovanili fasciste i GUF i Balilla anche Napoli risentiva di questo clima di tensione anche perché poi il presidente nazionale della Giac era un certo Angelo Raffaele Iervolino il papà della nostra cara Rosetta Iervolino e io voglio concludere ricordando quello che successe quando la polizia fascista arrivò nella sede delle fucine della federazione siana cattolica femminile napoletana gli agenti di polizia perquisirono la sede si meravigliarono per aver trovato indumenti usati ed elenchi di famiglie povere che le fucine soccorrevano alla signorina Scandone allora presidente uno degli agenti imbarazzato si scusò e disse dobbiamo sigillare anche la carità questi erano gli anni più delicati sono anche gli anni di impegno di sua Letizia Zagari nel ramo femminile dell'azione cattolica gli anni 30 sono quelli dell'impegno ecclesiale che non ha proiezione nella dimensione sociale proprio a causa della concorrenza con il fascismo tale periodo di crisi o comunque di isolamento finisce con la liberazione soprattutto quando si mobilitano i comitati civici dell'azione cattolica femminile e maschile nell'elezione del 18 aprile 1948 nonostante la prevalenza monarchica della democrazia cristiana l'azione cattolica napoletana maschile e femminile partecipa attivamente alla ricostruzione democratica del paese voglio chiudere ricordando un passaggio del sindaco che mi ha molto colpito quando ha detto identità locale e coscienza civile proprio attraverso l'identità locale e la coscienza civile l'impegno delle donne e degli uomini di azione cattolica ha ricostruito il tessuto democratico del paese e ha dato nuovamente alla politica il senso vero il senso cristiano cioè quello del servizio grazie grazie al professore Palmisciano concludiamo la serie degli interventi con la relazione del professore Don Gaetano di Palma docente di scienze bibliche che rifletterà insieme a noi sul carisma di madre Letizia Zagari nella biografia di Monsignor Sannini buonasera a tutti e saluto proprio così genericamente per non perdere secondi preziosi perché voi state facendo uno sforzo enorme lo so il caldo è quello che è e poi anche insomma il fatto di stare fermi tutto questo tempo comunque è veramente difficile in ogni caso ecco io mi dedicherò un po' a questo cioè innanzitutto voglio dirvi questo la biografia scritta da Monsignor Sannino avete potuto vedere non è un semplice elenco di fatti è un'indagine spirituale su madre Letizia si evidenzia l'individuazione del carisma eucaristico mariano d'altra parte tante cose sono state dette prima quindi mi esimo dall'andare più in profondità ma voglio soltanto far capire il legame forte che esiste in questa dualità del carisma eucaristico mariano perché in effetti eucaristia e maria implicano entrambi il legame stretto che esiste tra la cristologia e l'ecclesiologia cioè tra lo studio di Cristo e lo studio di la Chiesa noi abbiamo un bell'inno eucaristico chissà se lo riprendete un po' a cantare qualche volta perché diceva ma è in latino in latino non si usa più però intanto il latino è una cosa troppo bella insomma per buttarla alle ortiche il pangelingua una volta magari si sentiva no? nel pangelingua noi innanzitutto sentiamo il riferimento mariano nobis datus nobis natus ex intacta virgine devo tradurre è proprio insomma quasi italiano certo l'altro passo che ci fa invece capire la presenza reale di Gesù nell'eucaristia è un po' più difficile lo dico direttamente in italiano e cioè che il verbo carne e qui c'è il riferimento al Vangelo Giovanni rende con la sua parola il pane vero in carne lo trasforma in carne e il vino puro diventa sangue di Cristo e se il senso viene meno è sufficiente soltanto la fede per confermare un cuore sincero e questo allora ci fa capire l'importanza del legame tra Maria e l'eucaristia d'altra parte lo stesso Monsignor San Nino nella biografia dedica pure qualche pagina bella a un quadro che le suore hanno in copia naturalmente perché l'originale si trova a Parigi al Museo d'Orsay un quadro di Jean Auguste Dominique Ingrès la Vergine dell'Ostia del 1854 ancora una volta il legame tra Maria l'eucaristia e l'adorazione e e qui non può venire in mente se non un altro in eucaristico pure questo insomma un po' dimenticato adoro te devote si cantava una volta latens deitas ti adoro devotamente divinità che ti nascondi tu che ti nascondi sotto le figure del pane del vino e lo fai insomma veramente e quindi Monsignor San Nino delinea in tutto il libro i vari passaggi che storicamente poi sono stati i passaggi che hanno portato Madre Letizia a fondare la congregazione e con l'attento discernimento degli arciviscovi che si sono susseguiti non è stato fatto il nome di Alessio Ascalesi ma per problemi di tempo perché tutti quando il cardinale Ursi perché molti di noi che hanno una certa età l'hanno visto ma il cardinale Ascalesi è stato quello che ha guidato tutta la prima fase e quindi sotto il suo discernimento prima e poi quello degli arciviscovi successivi poi si è arrivati alla fondazione della congregazione insieme a tanti sacerdoti e padri spirituali che hanno accompagnato tutto questo e allora noi vediamo che c'è davvero insomma un carisma importante interessante che ancora una volta ci mette pure Madre Letizia in una certa sintonia con la tradizione della Chiesa i padri che cosa dicevano pensate insomma Agostino Ambrogio ma anche i padri orientali Cristo è il sole la Chiesa viene illuminata dal sole ecco e quindi è come la luna raggiante però di luce riflessa e quindi loro chiamavano la Chiesa il misterium luna il mistero della luna e naturalmente questo non può non riportarci alle belle parole del prologo del Vangioi Giovanni ve le dico in greco perché ormai noi non capiamo più niente il cervello effuso per il calore quindi anche se dico una parola per un'altra insomma non ve ne accorgete no ecco e cioè che il Cristo era la luce vera quella che illumina ogni uomo venuto nel mondo questo ercomenon può essere sia riferito a luce sia a uomo per la sua posizione vabbè lasciamo perdere la devozione mariana per madre etizia non è quindi una semplice appunto devozione a un radicamento teologico come vi ho fatto vedere un radicamento anche dovuto a una questione che è stata pure prima sollevata cioè quella della presenza della donna nella chiesa e anche qui dobbiamo dire noi abbiamo un personaggio Paolo di Tarso se voi magari insomma con un po' di tempo vi fate una specie di censimento dei collaboratori di Paolo di Tarso nominati in atti degli apostoli e lettere vedete che almeno il 20% sono donne il che vuol dire che già alle origini della chiesa il protagonismo femminile nell'evangelizzazione era molto presente e questo allora ci dà anche modo di dire e di confermare insomma ecco questo radicamento di Madre Letizia in questa tradizione io vorrei soltanto a questo punto proprio per non andare troppo oltre poi magari vediamo se l'associazione trova un finanziamento e ci fa pubblicare tutte queste cose che noi abbiamo fatto una ricerca noi abbiamo lavorato e allora non vorremmo che queste cose che abbiamo raccolto poi venissero perse vediamo un po' se riusciamo in qualche modo non oso dire al sindaco però insomma possiamo magari insomma trovare una forma per una piccola agile pubblicazione e non far perdere queste cose perché diciamo io ho fatto una piccola ricerca sull'ape che è stata nominata prima Maria ape regina però Madre Letizia ape eucaristica perché mi ha colpito questa cosa che Monsignor Sannino ha fatto inserire quindi nella presentazione messa poi ecco al libro presentazione fatta dal cardinale Ursi perché la simbologia dell'ape è importantissima io mi sono scritto tante cose non posso ripercorrere tutte vi dico soltanto alcune cose a modo di flash pensate e nella religione egiziana il dio Ra che era il dio del sole si dice che si mise a piangere e dalle sue lacrime uscirono ecco delle api api che dovevano produrre miele e cera e l'apicoltura quindi un po' alla volta si sviluppò chiaramente poi in epoca ellenistica divenne sempre più ecco strutturata però è interessante se voi andate a vedere tanti aspetti dell'arte egizia e insomma in tanti bastro rilievi e dipinti c'è anche l'ape che ha quindi ripeto una sua simbologia anche nella religione greca Zeus era chiamato Melisseo perché quando era piccolo a Creta venne nutrito dalle api e come regalo poi Zeus donò il colore dorato ecco alle api l'ape era sagra a tante divinità Demetra Artemide per il mondo greco Cerere e Opi per celebrare che cosa? l'operosità la produttività Virgilio dedica il quarto libro delle georgiche all'apicoltura e sapete che dice dice vi risparmio qui il latino perché se no ecco dice veramente fa caldo no? dice che le api sono partecipi della mente divina e dei sorsi dell'etere puro pensate perché le api davano l'impressione di essere coese di essere compatte operose sempre attive c'è quindi ripeto una bella simbologia sull'ape e tra l'altro poi lo stesso Virgilio nel libro sesto dell'Eneide quando parla delle anime che si avvicinano al fiume Lete il fiume della dimenticanza le paragona queste anime alle api perché volano ronzano e poi sono numerose anche l'antico testamento ha diversi riferimenti alle api non a caso la parola ape si dice debora che è un nome insomma che va un po' per la maggiore no? ecco e in Siracide 11.3 noi troviamo questa bella frase l'ape è piccola tra gli esseri alati ma il suo prodotto è il migliore fra le cose dolci qui poi dovremmo anche fare tanti riferimenti al miele unito al latte che sono considerati cibo paradisiaco è il cibo del messia nel profeta Isaia il miele è anche il cibo di Giovanni Battista all'inizio del Vangelo di Marco tra l'altro poi quando nel libro di Ezechiele nell'Apocalisse si dice che il profeta viene invitato a mangiare un libro un libro voi pensate era praticamente il rotolo di papiro ecco non il libro nostro si dice che poi questo libro mangiato prese il sapore del miele quindi il frutto delle api anche in altre opere interessanti antiche abbiamo questo riferimento all'ape per esempio ecco Filone d'Alessandria un giudeo filosofo di Alessandria d'Egitto dice che la manna che poi in seguito divenne prefigurazione dell'Eucaristia è glucuteron melitos più dolce del miele e poi che il miele è teusofia è sapienza di Dio c'è anche Clemente Alessandrino un grande padre della chiesa che ci parla dell'ape e sapete che cosa fa paragona il suo maestro Panteno che era di origine siciliana lo paragona proprio all'ape per la sua capacità di saper sintetizzare ecco la sapienza dappertutto e di saper poi offrire un prodotto che diventa scienza immortale anche Basilio Magno ecco dice qualcosa sull'ape e tutte quindi queste testimonianze che cosa portano a farci capire naturalmente esaltano il valore dell'operosità dell'ape e Sant'Ambrogio dice che i cristiani sono come le api nella chiesa perché devono sempre insomma agire un altro teologo bizantino teolepto di Filadelfia siamo insomma nel medioevo paragona le api alla vita monastica quindi per sintetizzare sto a pagina 4 e 4 pagina ho scritto l'ape è considerata emblema di Cristo per il suo miele perché ne evoca la misericordia ma per il suo pungiglione ricorda Cristo giudice quindi vedete insomma l'ape diventa addirittura simbolo di Cristo San Bernardo di Chiaravalle a sua volta definito doctor melliflus perché la sua parola era come il miele la definisce addirittura simbolo dello spirito santo il rapporto alla sapienza e all'intelletto e poi se qualche volta vi è capitato non le suore ma gli altri insomma di andare alla veglia pasquale il pregonio pasquale quella bella preghiera che si dice all'inizio davanti al cero pasquale nomina le api perché con il loro lavoro si fa la cera quindi come vedete insomma e allora a questo punto in questo incompleto scenario abbiamo colto almeno queste cose il rapporto di madre etizia con l'eucaristia perché ella vola sempre attorno al sacramento insieme allo sciame delle sue seguaci è industriosa pur essendo contemplativa ispirandosi all'esempio della madre di Gesù ha coltivato la vita religiosa impegnandosi con la castità perché una cosa che per la fretta mi è sfuggita è che le api anche da Virginia le sono considerate simbolo della castità perché dice loro per pensare a lavorare non pensano ad altro capitemi insomma si è nutrita del miele eucaristico e di quello della parola di Dio allo stesso tempo ha donato il miele del carisma alla chiesa affinché le sore possano dedicarsi alla missione e questa sera abbiamo assaporato questo miele approfittando del ricordo di Monsignor Sandino e della sua capacità di leggere e comunicare tutta questa grazia di Dio grazie della vostra attenzione grazie al professore Don Gaetano di Palma io replichiamo l'applauso perché oggi è anche il compleanno quindi gli facciamo ufficialmente gli auguri di buon compleanno termina anche il secondo momento ora è il momento dei nostri ragazzi è il momento di conoscere loro il merito ascolteremo i nomi tra qualche istante dei vincitori della quarta edizione del premio Monsignor Francesco Sandino allora chiamo la professoressa dell'istituto nautico la professoressa Giovanni Russo per la presentazione dei nostri ragazzi vi ricordo che al termine parliamo di qualcosa di fresco c'è un momento di rinfresco per tutti quanti noi per fare comunità e per mettere in pratica i buoni propositi ascoltati dai nostri datori allora presentiamo questi giovani dell'istituto tecnico nautico i due criteri che noi utilizziamo in genere per la scelta di questi alunni e chi si distingue in effetti per portare avanti nel territorio sul territorio il nome dell'istituto e quindi in particolare facciamo riferimento al corpo le sentinelle che noi abbiamo che ricevono durante le situazioni ufficiali dell'istituto e quindi che anche i genitori possono vedere perché sono presenti anche durante i colloqui scuola famiglia e quindi abbiamo la giovane Damiano Tara della classe quarta B eccola qui facciamo un applauso per la nostra vincitrice complimenti in fila per la foto quest'anno abbiamo tenuto a scegliere anche una ragazza in particolare perché non ce ne sono molte in istituto anche se ultimamente sono aumentate di numero la professoressa Romano è un'antesignana in questo e quindi anche questa è stata diciamo la scelta e poi abbiamo il giovane Fildi Matteo della quarta AIM quindi della sezione dei macchinisti un ragazzo che abbiamo scelto perché si è distinto per merito per merito teniamo a sottolinearlo perché nonostante tutto questo periodo al quale appunto hanno fatto riferimento prima i professori di grande appunto difficoltà legato alla pandemia e quindi per il quale siamo stati costretti a ricorrere alla didattica a distanza il ragazzo invece ha continuato a seguire e a partecipare mettendoci tutto il suo e quindi l'istituto ha ritenuto dover riconoscere questo impegno chiamo i due ragazzi ringrazio la professoressa Romano grazie grazie di cuore ragazzi un momento di foto insieme a tutti quanti prego prof vorrei anche gli altri colleghi è la cosa bella di questo di questo anche momento di premiazione che questa sera abbiamo presentato la prima biografia di una donna che è elevata ha iniziato il percorso degli onori su Letizia Zagari e concomitantemente questa sera abbiamo premiato una donna impegnata nel mondo culturale nel mondo della scuola alla quale veramente auguriamo insieme al collega un roseo e prospero futuro all'insegna veramente dei sogni dei desideri ma soprattutto della passione che è il vero motore che anima tutto c'è ancora un momento di consegna cara Giovanna cominciamo con i nostri relatori quindi il primo momento di consegna lo diamo al professore Giustiniani Pasquale Giustiniani prego prof davanti al tavolo di presidenza professore Giuseppe Palmisciano restate in posta per la foto Don Gaetano di Palma Sor Maria Rosa del Vecchio Girate la targa facciamola vedere restate in posta per la foto il sindaco Giovanni Palum è stata in posta ottimo ottimo io la ritirerò alla fine a me tocca grazie eccoci qua siamo arrivati veramente alla battuta conclusiva dopo ci facciamo tutti quanti la foto di gruppo concludiamo prima questo momento non andiamo via perché restiamo per un momento ora di socializzazione insieme è un momento di rinfresco e chiudiamo allora Giovanna con le parole del Siracide della Sacra Scrittura abbiamo citato e ricostruito dalle pagine della Sacra Scrittura facciamo l'elogio degli uomini illustri dei nostri antenati secondo la loro generazione essi furono uomini virtuosi i cui meriti non furono dimenticati sicuramente Monsignor Sannino non è dimenticato con lui illustro il vanto la storia e la tradizione della nostra città grazie a tutti per essere intervenuti restiamo ancora insieme per un momento di socializzazione grazie a tutti grazie a tutti